Ehi ragazzi a tutti ragazzi sono Jeff e benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video Oggi ragazzi siamo bentornati qua sul secondo canale per un nuovissimo secondo me sulla prima stagione di Daredevil Allora ragazzi come sempre per iniziare con questo video vi consiglio di mettere a like, iscrivervi al canale, condividere il video con tutti i vostri amici Commentare, attivare la campanina dei video avvisi se volete essere sempre aggiornati E vedete per il cinchiacchiere di iniziare subito con questo nuovissimo secondo me Allora ragazzi come ho detto oggi parleremo della prima stagione di Daredevil uscita ormai nel lontano 2015 Ideata da Drew Goddard Tra l'altro si pensava che fosse anche il regista di Spider-Man 4 con Tom Holland Guardate l'avrei voluto tantissimo ma purtroppo hanno smentito il rumor ecco Allora ragazzi cosa dire da dove cominciare ecco ovviamente questa serie mi è piaciuta un botto ragazzi Con questi toni molto dark che prende ispirazione dalla run di Frank Miller mi sembra che era Forse sì non sono sicurissimo però mi sembra di sì Comunque Daredevil molto dark ecco che sorride veramente poco Che dà delle mazzate potentissime Qua Daredevil Matt Marduk interpretato da Charlie Cox che è stato veramente bravo anche per Comunque interpretare una persona cieca che comunque doveva avere lo sguardo perso Quindi è stato bravo ecco quindi già Matt Marduk mi è piaciuto un botto Poi con tutta la storia del padre di Jack Marduk che veniva pagato per perdere Mi è piaciuta come cosa Ma anche personaggi secondari ad esempio Karen Page e Foggy Nelson Karen Page interpretata da Deborah Ann Wall Che anche lei è stata decisamente brava perché comunque Karen Page è un personaggio qua abbastanza complesso Ecco che ad esempio all'inizio serie aveva ucciso il suo capo Poi sempre nel finale uccide James Wesley che è praticamente la spalla di Wilson Fisk Che poi vabbè ci arriveremo dopo Comunque anche qua Karen Page come ho detto mi è piaciuto è che fa la segretaria di Nelson e Marduk Quindi mi è piaciuto un botto come personaggio E anche Foggy raga ci stava un botto qua interpretato da Elden Hanson Che qua Foggy è l'amico di Matt Marduk Che a metà della serie scopre che Matt Marduk è Daredevil Qua lo chiamano Diavolo di Hell's Kitchen O l'uomo mascherato così E da lì diciamo Litiga un po' con Matt Perché capisce che da un sacco di anni si conoscono Ma non gli ha mai rivelato questa cosa Non gli ha mai detto che c'ha i poteri Ecco quindi C'è stato come Rottura ecco della loro amicizia Poi ragazzi Arriviamo a Wilson Fisk Interpretato da Vincent D'Onofrio Che è la sua prima apparizione nel ruolo Che poi vabbè Riappariva in Daredevil Born Again Ma era anche apparso nell'MCU Proprio Nella prima stagione di Hawkeye Che vabbè Lì l'avevano molto Come avevo detto Nel secondo me l'avevano molto Reso un po' gigione Ecco che Qua ragazzi fa delle robe veramente assurde Che Uccide suo padre A martellate sulla testa E poi Uccide uno un altro a portierate Veramente cose assurde Poi Scalaventa i tavoli Così gli istrugio Veramente robe Assurde Che comunque ci stanno Anche che Non è molto Sboccato come personaggio È anche Abbastanza elegante Quindi questa cosa mi è piaciuta Poi ragazzi Vincent D'Onofrio nel ruolo È perfetto Anche che Lo vedi che è lì Che si arrabbia Ma si contiene Cioè Wilson Quindi È stato veramente Un ottimo personaggio Poi ragazzi In italiano doppiato da Luca Ward Cosa bisogna dire Cioè Perfetto Veramente Anche quando Uccide Ben Yurick Che Io sinceramente Non me lo aspettavo Che morisse Ben Yurick Nella prima stagione Perché comunque Nell'universo Marvel È un personaggio Abbastanza importante Cioè comunque Era il reporter Il giornalista Non solo di Daredevil Ma anche di Spider-Man Di Punisher Cioè comunque Era il giornalista Di vari supereroi Quindi Veramente Sono rimasto sorpreso Che l'abbiano ucciso Nella prima stagione Ma Il suo arco Narrativo Si era Abbastanza concluso Anche se Mi sarebbe piaciuto Vederlo Nelle prossime stagioni O apparire In un film di Spider-Man Non lo so Adesso sto Abbastanza Inventando le cose Poi Passiamo a Claire Interpretata da Rosario Dawson Che è la stessa Che interpreta Ahsoka Nell'universo di Star Wars Qua interpreta Claire Che Diciamo Quella che cura Matt Dalle ferite La dottoressa Che lo cura Quindi Serve un po' Come personaggio Di supporto Ecco Qua non fa moltissimo Però Rosario Dawson È stata veramente brava Tra l'altro In un episodio All'inizio della serie Viene rapita Quindi Daredevil La deve aiutare E comunque Un personaggio ok Cioè Serviva nella storia Ma Non ha fatto tantissimo Però Ci stava Ci stava Poi ragazzi Passiamo a uno dei personaggi Che Se Cioè Solitamente Pensi che non sia Importante Ma Forse è il personaggio Proprio più importante Della serie Il personaggio Che inizia La trama Ovvero Vanessa Deportata da Ayelet Zurer Che è la stessa Che interpretava La madre di Clark Kent Di Kal-El Nell'universo Del DCU Bella Sta connessione Che vi ho detto Qua è un personaggio Che se non ci pensi Come ho detto Non è importante Ma In realtà È quello che inizia La trama Perché Vanessa Entra nella Vita di Wilson Fisk E Lì Wilson Si Ammorbidisce Non pensa più A tutte Le questioni Un po' Mafiose Che sta Che sta facendo Ma Pensa di più a Vanessa Tutte queste cose Infatti Glielo dicono Anche Leland Dowsley O Madame Gao Che Lui Da quando C'è Vanessa Non è più Concentrato Tutte queste cose Qua E tra l'altro Loro due Provano anche Ad avvelenarli Infatti Poi Vanessa Va in ospedale E lì Wilson Impazzisce Completamente E Quindi È un personaggio Come ho detto Importante Che ci stava Qua Nel finale Quanto si vede Va via Mentre Wilson Rimane in prigione Tra l'altro Una roba Che non ho Approfondito bene Prima Ragazzi Wilson Con le origini Di quando diventa Cattivo Che uccide il padre Che guarda la parete Bianca Che Si rivede anche Spesso Negli episodi Successivi Di lui Che si compra Il quadro Identico Anche in prigione C'è quella roba Veramente Bellissima Un bellissimo Collegamento E poi Passiamo agli ultimi Personaggi Proprio Ragazzi Come non Non nominare Stick Intervato da Scott Glenn Ragazzi È veramente Un personaggio Fighissimo Fighissimo Mi è piaciuto Un botto Poi Scott Glenn È bravissimo Abbastanza sopra le righe Ma ci sta Ed era Anche importante Per finire Di raccontare Un po' Le origini Daredevil Come è stato Addestrato Da chi è stato Addestrato Scott Glenn Il suo personaggio Sarà più importante Nel futuro Perché è un po' Incentrato Con la mano Che Gli vuole Distruggere Così Qua Viene accennato Proprio Tra l'altro C'è un bambino Che era un'arma A quanto pare Non viene specificato Bene Ma sono sicuro Che poi Nelle stagioni Successive O nella serie Defenders Verrà approfondito E Vabbè Poi ci sono Bello che All'inizio della serie Wilson C'è tutta la sua Combricola di cattivi Alla fine Praticamente Muoiono tutti Perché Nobu Viene ucciso Praticamente Da Daredevil Ma non proprio Perché brucia Per via Di una lampada Attaccata Così Anche Leland Owsley Che viene ucciso Direttamente Da Kingpin Madame Gao Che se ne scappa I russi Che vengono Praticamente Tutti e due Uccisi da Kingpin Anche qua Quindi Inizio che ha fatto Proprio una strage Poi ragazzi Un personaggio Che mi è piaciuto Un botto Che si vede poco È Melvin Potter Quello che crea Il costume Daredevil Interpretato da Matt Gerald Qua che È stato Assunto da Kingpin Per fargli Delle armature Protettive Perché Kingpin Sta minacciando Sta minacciando lui E questa Bezzi Che non lo so Non si vede mai Però Ci stava Anche qua Melvin Potter È un po' Un bambinone Anche se lo vedi Tutto figo Pelato Grosso Con i muscoli Così Invece alla fine È anche lui Un gigione Mi è piaciuto Un botto Il costume Forse Che si vede Nel finale Non è proprio Bellissimo Però so che nelle stagioni successive Lo cambiano Qua si vede Per proprio Mezza puntata Quindi Fa niente E niente ragazzi Questo è il mio Secondo me Sulla prima stagione Di Daredevil Ovviamente Il prima possibile Vi porterò Secondo me Sulla stagione 2 Sono veramente felice Di avervi portato Daredevil Perché era da Qualche anno Dal primo video Che ho fatto su Daredevil Quando doveva Arrivare nell'MCO Che non si sapeva Se Charlie Cox Tornasse Che vi volevo portare Questo video Quindi adesso Ce l'ho finalmente fatta E niente Ragazzi Vi ringrazio Nella prossima visione Spero che questo video Vi sia piaciuto E niente Ci vediamo Nel prossimo E nuovissimo Video Ciao ragazzi Cheep Cheep Ciao ragazzi